Sempre dal nuovo di Via Olimpia di Castelfrentano, un consueto pomeriggio di allenamenti della nostra scuola calcio. Al campo vecchio di Via Nazionale si sta allenando gli allievi, gli under 17 e poi se non erro la prima squadra militanti in prima categoria. Qua invece si sono i primi calci, i primi calci qua c'è il mister Rullo con il Kiwey Bordeaux, là in fondo pure un altro gruppo. Qua invece c'è la scuola calcio femminile, l'under 15 pure formata, le nostre led di giallorosse. C'è il mister Gabriele Di Felice, il nostro coordinatore tecnico della scuola calcio del settore giovanile, nonché il mister della categoria esordienti under 13. Mamma mia cazzone, vai lotta! L'illuminazione è un po' di fortuna, L'illuminazione è un po' di fortuna, un po' eh, in quanto questo bell'impianto non ha ancora un suo impianto di illuminazione come merita questa struttura. Sopperiscono le luci qua della tribuna. All'altro lato c'è... Erano i provvisori uffici del comune, adesso sono dell'associazione, due faretti di là, un faro al vecchio spogliatoio. L'altro illumina... Da sopra c'è il pattinodromo, il calcio, il cambetto di calciotto, un faro in questa direzione proprio per cercare di dare una luce decente almeno per gli allenamenti. Manca solo sta chicca di questa illuminazione e questo impianto sarà il fiore all'occhiello di questa cittadina che sta affrontando. Passa la mano... Passa la mano... Passa la mano... Passa la mano... Bravo Davi... Eccoci, è mister Anna là in fondo... il nostro mister gabriele sempre un vulcano in eruzione eccole le led di giallorosse mamma mia ciano 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 madurini fuori ciano ciano Sino! 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 Sempre qua al nuovo di Rio Olimpia di Cassia e Frentano, un normale pomeriggio di allenamenti e di divertimenti per i nostri baby, calzatori. C'è mister Camillo, qua. Sino! 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 Avanti! 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 lineppei rinforzati con la tua fila. Avanti! 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 i genitori che applaugiano i loro pargoletti. Ecco, vediamo questo rigore. E' parata, parata, bravo, lo dice a mamma su Facebook, su YouTube, lo dice a mamma di andare alla nostra pagina, va bene? No parata. E' parata, 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 parata. E' parata, parata, parata. E' parata, parata. E' parata, 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 parata. Parata, 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 parata. 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 Parata, parata. le prossime riprese è bello vedere tutta allora da nuovo di via olimpia alle prossime riprese grazie